Prima di iniziare, signori, devo assolutamente fare una precisazione e quindi devo ringraziare Riccardo Sirotti per aver sfamato completamente a ciugo nel pre-partita di ieri, nella live di Twitch che troverete sul mio canale Twitch proprio inerente a Juventus Terreno 4-1, Riccardo gli era fatto il delirio, il disastro e quindi mi sembrava giusto, assolutamente, un piccolo riconoscimento, una piccola citazione a lui che ha sostenuto il canale in una maniera incredibile, quindi Riccardo ti ringrazio, grazie, grazie mille, gentilissimo E poi si concluderà nel migliore dei modi, intanto metto la grafica qua, Quadrado che attacca Di Bala, è solo al centro dell'area, ancora Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala, Di Bala E c'è il gol, che gol ha fatto Paulino? Due minuti e sedici sul cronometro, ha il train che viene completato, io che non ho ancora nessuna grafica c'è subito il gol fantastico di Paulino, Di Bala, e guardate questi beat di acciugo subito Ma che gol ha fatto? Ma che gol ha fatto? Quadrado, dentro, per Di Bala, e uno saltato, a sedere, e due saltati C'è la deviazione, e nasce il pallonetto, imprendibile per Sirigu Avanti con l'emoticon della Di Bala Mask, avanti Ho paura di mettere in dubbio la mia eterosessualità, dice Stefano Eh, per Paulino Per Paulino c'è il rischio 1-0 Juve, subito Subito E posso finalmente scrivere Juventus 1 Torino, 0 Forse è troppo lungo No, è perfetto, guarda che storia Di tacco Pjanic, la rimette fuori Bernardeschi allontana bene meglio Ma trova Di Bala, incredibile Sulla ripartenza, e mamma mia E Di Bala va da Ronaldo Questa giocata di Bernardeschi, quasi totalmente a caso Rischia di diventare una cosa molto interessante C'è Ronaldo, dentro per Quadrado Ancora Quadrado Praticamente era fermo Quadrado, Quadrado, Quadrado Quadrado E c'è il 2-0 Ripartenza mortale della Juventus E Quadrado nel derby, c'ha sempre questo appuntamento con il gol E Ipanita Secondo gol in stagione Grandissima ripartenza della Juve Bernardeschi fa una roba che sembra bruttissima Trova perfettamente di Bala Che va subito da Ronaldo Ronaldo amministra totalmente Alla grande Il contropiede E poi all'ultimo la passa Quadrado E quello è il gol da Quadrado Quella è la giocata da Quadrado Da fermo 1-2 Bam E ora c'è anche il cooling break Juventus 2 Torino 0 Siamo avanti Raddoppiato Il parziale Grande panita, gran gol Grande azione di ripartenza Squadra Gioco di squadra Questo è un gol da squadra Un gol da squadra Gol su ripartenza Quando mai? Eccoci Ci succede Adesso siamo in condizione Ci sta andando tutto bene Ci viene tutto Siamo in condizione Va a vederlo però Sì aspetta Non possono darci un rigore contro Per questo L'ha presa veramente Prima con il pene Ma no rega Non puoi mai Non può mai essere rigore Questo Non può mai essere calcio Di rigore Questo Pugue mano Torna in campo Secondo me da rigore Ma com'è da rigore Rega Arriva Maresca Val Calcio di rigore per il Torino Calcio di rigore per il Torino E ha morito De Ligt Terzo A morito della Juve Torno proprio L'ultimo secondo Secondo me questo Non è mai rigore Cioè questo non è mai rigore E De Ligt Era difidato De Ligt Era difidato Belotti contro Buffon Gigi Fatti il regalo In questa giornatina Fatti il regalo Gigi Fatti il regalo Gigi Ah L'avevi indovinata Ma Belotti fa gol 2-1 Juventus 2 Torino 1 E finisce qua Il primo tempo Con il 2-1 Del Toro Sul calcio di rigore Che mi lascia un po' Un po' di dubbi Sono sincero Ma vabbè Ma Ronaldo Oddio Ha fatto gol su punizione Cristiano Ronaldo Ha fatto gol su punizione Finalmente Il gol su punizione Di Cristiano Ronaldo È arrivato Su Nimica Le domeniche d'agosto Quando ha neve che verrà Gigi D'Alessio si è sbagliato Arriva luglio C'è riuscito Finalmente 25esimo gol In 26 Partite in stagione C'è riuscito Santo il signore Era ora È diventato Super Saiyan Di terzo livello Un gioiello Un gioiello Un gioiello Guardate se è contento Finalmente Non ne poteva più Bravo Bravo Ragazzi Chat solo emoticon Per questo Siu di Cristiano Ronaldo Che arriva nel momento Più difficile Nel momento Più difficile Della Juve Arriva il miracolo Chiamato da padre Rabiot Il gol Su punizione Di Cristiano Ronaldo Oddio Stavo partorendo Stavo malissimo Era ora Era orissima Era orissima E tirarlo fuori in questo momento Questa perla Questa perla Finalmente Cristiano Ronaldo Su calcio di punizione Un giorno potrò dirlo Io l'ho visto Io l'ho visto Io l'ho visto Ho visto In live Cristiano Ronaldo Fare gol su punizione Che Douglas Costa È un po' più in alto Adesso è a sinistra Douglas Costa Ronaldo Ancora Douglas Costa Si butta dentro Danilo Ma Danilo Stai dall'altra parte La mette dentro Oh Autogol Del Torino C'è il 4 a 1 Sul cross Di Douglas Costa E Gigi Appena entrato Ci fa il regalo Nel giorno di Gigi 4 a 1 4 a 1 Per la Juve Grande derby Fino a questo momento Grande derby Autogol di Gigi Juventus 4 Torino 1 Cara Probabilmente il Cipario Su questo Derby della Mole